ciao a tutti bentornati al nostro bootcamp in questo video parleremo di errori che possono rovinare la vostra presentazione le slide sono un elemento visuale di aiuto molto utile soprattutto per agevolare quella che la comunicazione da parte del presentatore e per favorire quella che la comprensione da parte del pubblico però non devono diventare i protagonisti o le protagoniste perché tolgono l'attenzione proprio al presentatore e rischiano di affaticare di annoiare la platea in questo video vedremo alcuni esempi di slide sbagliate alcuni elementi che devono essere tolti per evitare questa problematica passiamo proprio a quest'ultimi uno di questi sono le transizioni animate comunque le animazioni in genere all'interno delle slide queste possono essere utili per focalizzare l'attenzione del pubblico su un determinato elemento ma deve essere uno o due per presentazione se ogni campio slide diventa un intro di un videogioco allora dopo il primo dove sono colpito già il secondo rimango un attimino tranquillo il terzo o la goccia il quarto o il vomito per cui consiglione nel caso di dubbio anche nel caso di nessun dubbio evitate assolutamente le transizioni animate altro elemento che rischia diventare sicuramente un ostacolo per la fruizione e il testo questo è un testo scritto in formato verticale una tesina questo è lo stesso testo messo in formato orizzontale non è una presentazione molto spesso troppo spesso vedo persone che prendono un testo e lo incollano dentro powerpoint credendo che sia una presentazione il testo non c'entra nulla con la presentazione perché è antagonista quello che va a dire il presentatore e affatica solamente la platea quindi anche in questo caso è da evitare assolutamente andiamo adesso a vedere proprio l'analisi di alcune slide che ho preso ecco qui la sezione mamma mia queste sono presentazioni tratte dal sito slideshare che è un po lo youtube per le presentazioni andiamo a vederne alcune questo riguarda il testo analizziamola lo sfondo è positivo è uno sfondo neutro di un grigio scuro che risalta bene con il testo e qui finiscono le notizie belle perché per il resto la slide non funziona vedete infatti che c'è una sbadilata di testo molto compresso tra l'altro c'è questo elengo puntato infinito che non funziona perché la formatazione è centrale vedete anche quel rosso che è poco leggibile per evidenziare la parte di testo più interessante comunque il problema principale è che c'è troppo testo passiamo a una slide invece che non ne contiene molto ma che comunque è sbagliata questa ecco vedete come zippare 100 slide in una si sono 100 le immaginine lì sotto è una slide incompressibile ci vorrebbero delle settimane per capirla sempre che si lega anche nemmeno da prima fila non riescono ad aprirla è una slide approssimativa che è dovuta soprattutto per il fatto che sia stata fatta velocemente fatta male lo si vede ad esempio alcuni dall'uso del modello di powerpoint che è uno dei più classici quindi uno dei più usati lo si vede dal fatto che hanno buttato dentro l'immagine con sfondo diverso rispetto alla slide lo sfondino dell'immagine gialla come vedete contro il bianco della slide lo vedete da questo testo di titolo molto lungo infinito di un color verde che è poco leggibile ma soprattutto che non c'entra nulla con gli altri colori come non c'entra nulla anche il colore del testo sopra lo schema insomma un piccolo disastro si può fare peggio a volte sì forse non dal punto di vista grafico ma sicuramente dal punto di vista del contenuto come in questo caso questa classica slide per vedere degli errori è questo schema a spaghetti cosiddetto fatta da quella che la forza armate statunitense riguarda la situazione in afghanistan come immaginate per leggere questa qua ci vorranno alcune settimane soprattutto uno schermo grande come un edificio quindi qui veramente c'è una serie di errori uno schema che non si può assolutamente presentare durante uno slide show andiamo a vedere torniamo invece un po' al testo e vediamo il rapporto tra testo e sfondo qui c'è veramente tantissimo testo ancora più degli altri molto compresso vediamo anche che il titolo è troppo grande sta prendendo troppo spazio per il testo che comunque è oltremodo presente e ma soprattutto c'è una problematica in questo caso di lettura dovuta allo sfondo lo sfondo il colore degli sfondi ma soprattutto la fascia sottostante a questo sfondo che disturba completamente la lettura andiamo poi a vederlo un altro di esempi di rapporto sbagliato tra sfondo e testo sempre che il testo sia qualcosa di giusto all'interno di una slide e lo vedete come in questo caso come la macchina va veramente a rendere difficoltosa e stancante la lettura per parte di chiunque la cosa può anche peggiorare se volete eccola qui se avete un'idea come questa cioè di mettere uno sfondo già un testo giallo su uno sfondo verde flu ecco sapete come far sanguinare gli occhi alla vostra platea se questo è il vostro fine ecco qui un esempio ma comunque in ogni caso se avete intenzione di mandare 10 20 una cinquantina una decina di slide del genere qualsiasi siano di quelle che ho visto precedentemente davanti a una platea il risultato dopo pochi minuti sarà indubbiamente questo e non mi resta altro invece che salutarvi mandandovi rimandandovi al video successivo che vi farà vedere come sono le cinque regole d'oro per evitare proprio questo tipo di problematica ciao ciao grazie a tutti